Si chiude il sipario sull'ottava edizione di Castellabate, il luogo dell'incanto, rassegna di musica e spettacoli fortemente voluta dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Castellabate. Dopo i successi collezionati serata dopo serata, salgono sul palco all'estito della corte interna del Castello dell'Abbate Antonio Onorato, Alessandro Lacorte, Giuseppe Arrina e Mario De Paola. Giovedì 29 agosto alle ore 22 si esibirà Antonio Onorato New Quartet, una nuova e interessante formazione che porta in tour il caratteristico sound solare mediterraneo del chitarrista partenopeo. Questa volta si riparte dai suoni del primo CD Gaga fino ad arrivare a Vesuvio Blues, passando dalle atmosfere brasiliane agli indiani d'America, dal jazz al rock blues, ma con la tradizione melodica napoletana sempre nel cuore. Antonio Onorato è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana, essendo anche l'unico musicista al mondo ad utilizzare la breath guitar o chitarra affiato. Uno strumento rivoluzionario e futuristico, nei suoi 26 album pubblicizzati ha saputo combinare linguaggi jazz rock con le musicalità afroamericane, medio orientali e brasiliane, elaborando uno stile originale sempre in evoluzione. Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in tutto il mondo, tra cui il Blue Note di New York, e ha collaborato con Pino Daniele, Franco Cerri, Tonino Horta, James Enese, Enrico Rava e tanti altri. L'assessore al turismo alla cultura, Luisa Maiuri, è soddisfatta dell'ottima riuscita dell'ottava edizione e commenta così l'appuntamento conclusivo. Quattro musicisti d'eccezione calcheranno il nostro fortunato palco trasformando ancora una volta Castellabate nel luogo dell'incanto e il Castello dell'Abbate nella location suggestiva per manifestazioni così importanti.